Una bellissima giornata di sport, un Hermes Casagioca che non ha demeritato a cospetto dei più quotati avversari. Diciamo che era più che altro un modo come un altro per far allenare loro perché sono impegnati in una corsa importante. Quindi era un modo come un aiuto a loro per farli stare bene atleticamente. Abbiamo fatto quello che potevamo logicamente, però tutto sommato è andata bene. Siete quarti in classifica, quali sono i vostri obiettivi quest'anno? Il nostro obiettivo quest'anno, che ci siamo prefissi a dicembre quando abbiamo cambiato un po' di cose, era quello di arrivare nelle prime tre con la speranza di poter fare un buon cambiamento di promozione il prossimo anno. Credo che per come sono messe le cose possiamo tranquillamente centrare l'obiettivo. Abbiamo le prossime tre partite con squadra di cambiamento alla nostra portata. Mister, vista l'ubicazione di Casagiove, vista l'affinità che c'è con la città di Caserta, potrebbe la città di Casagiove diventare un serbatoio tramite l'Ermes Casagiove per questa casertana per i pro? Noi ce l'auguriamo perché poi, voglio dire, adesso è una delle realtà più importanti che c'è in campagna. Noi ci auguriamo che questa possa avvenire, ce la metteremo tutta affinché questo progetto possa prendere piede. Il nostro auguro è questo, perché lavorare con una squadra come la Casertana, una società come la Casertana, che quest'anno ha dimostrato di poter fare molto bene sia a livello societario che a livello calcistico, per noi sarebbe motivo di grande orgoglio. cercheremo di puntare a questo obiettivo. Il suo futuro sarà legato sempre a Casagiove? Io credo di sì, per la stima che mi lega alla famiglia Corsale, quindi assolutamente sì. Un ringraziamento a questa famiglia Corsale per quello che hanno organizzato oggi? Io voglio ringraziare sia la famiglia Corsale, come società, Ermes, il presidente Molfino e tutti quelli che girano attorno, sia la Casertana per la disponibilità che ha avuto nei nostri confronti e per la bella giornata di sport che siamo andati incontro.